Impegnato nel bilancio di sostenibilità 2012, il gruppo GESAM presenta anche l'ambiziosa iniziativa con GESAM. Questa è un'iniziativa finalizzata al progetto del bilancio sostenibile del gruppo. È un bilancio che abbiamo già presentato nel 2011 del bilancio precedente. Questo è l'inizio di un percorso per arrivare alla conclusione e alla presentazione del bilancio. Il percorso e l'iniziativa vedono la GESAM impegnata su due fronti. Avere un riscontro sia dei cittadini attraverso un questionario online all'interno dei siti del gruppo, sia degli stakeholder, letteralmente i portatori di interesse. Il bilancio di sostenibilità quindi mira a capire se quello che la GESAM ha fatto sul territorio è stato percepito e gradito, in più ad accogliere i consigli volti al miglioramento dell'azienda. Ad ospitare la conferenza il Museo di Arte Contemporanea a Lucca. L'importanza dell'iniziativa all'interno del museo è spiegata dal presidente Angelo Parpinelli. realizza quello che è il pensiero che ha originato questo museo. L'idea fondamentale era che possa diventare consuetudine andare al museo, quindi aprirsi alla gente e aprirsi alle realtà sociali. La GESAM io credo che sia una ditta che abbia colto in pieno questa nostra intenzione. Quindi il museo è a loro disposizione. Grazie. Grazie. Grazie.